buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro canale oggi iniziamo col mio racconto il ritorno del lupo nella valle dei salici dell'episodio numero 1 la valle misteriosa buon ascolto molti secoli fa esisteva una misteriosa vallata chiamata la valle dei salici essa possedeva una bellissima cascata uno spettacolare panorama e un sacco di cose meravigliose tuttavia durante la sera la valle si trasformava diventando un luogo misterioso inquietante tanto che appariva una nuvola nera che formava il volto di un lupo questo evento incuteva terrore e paura a tutti gli abitanti del villaggio vicino fu così che un giorno giorgio il sindaco preoccupato che nessun turista non avrebbe più potuto avvicinarsi a quella valle insolita decise di investigare egli una volta che si trovò sul posto incontrò un pastore che gli disse signor sindaco l'avviso che per lei è pericoloso avventurarsi in questa valle insidiosa non conosce la leggenda il sindaco confuso rispose io non so nulla di tutto ciò ma vorrei solamente capire perché i turisti non frequentano ormai da parecchio tempo questa valle così meravigliosa un tempo devi sapere che questa valle era ammirata da milioni di persone la gente adorava questo posto purtroppo oggi non capisco perché questo luogo incantato rischia di essere dimenticato cosa sta succedendo il pastore sedendosi su una roccia iniziò a spiegare al sindaco il motivo per il quale le persone avevano paura di avventurarsi nella valle devi sapere che molto tempo fa un ferocissimo lupo abitava in una tana nascosta tra questi boschi e più di una volta aveva fatto sparire dai greggi i poveri pastori fecero molti tentativi per ritrovare le loro pecore sperdute ma purtroppo nessuno era mai riuscito a recuperarli ecco perché la gente ha paura di questa valle essi temono per la loro vita il sindaco comprendendo la situazione promise al pastore che sarebbe riuscito a liberare tutti i suoi cittadini dalle paure dalle strane credenze che avevano obbligato la gente a dimenticare questo luogo selvaggio e incantato questo è il sindaco il pastore e il suo greggio bene vi ringrazio dell'ascolto lasciate un like se vi è piaciuto grazie alla prossima ciao da simone ciao